Grazie. Allora, funziona. Allora, prima intanto una breve spiegazione su chi sono io, su chi ascolterete per la prossima mezz'ora. Io sono Marco, ho conosciuto WordPress, sapete proprio i casi così per caso, no? Si suol dire. Durante la pandemia uno non sapeva cosa fare, preso mi sono lanciato. Con la voglia di fare ho scoperto WordPress, ho scoperto questo fantastico strumento e da lì sempre di più, per fare sempre cose nuove, per migliorarmi, ho scoperto nuovi strumenti. Oggi andiamo a parlare di un argomento molto interessante, che è quello dei negozi online con WordPress. Tenete in considerazione che veramente tanti, ma tanti negozi online sulla faccia della terra, sono creati con WordPress, in particolare con uno strumento WooCommerce. Infatti, quando noi diciamo negozi online con WordPress è sinonimo di WooCommerce, però fra poco vedremo che non è l'unico strumento possibile. Ma intanto una breve introduzione sulla situazione mondiale dei negozi online. I negozi online sono nati con lo scopo di, per permettere alle persone di fare acquisti a distanza, di prodotti principalmente fisici all'inizio. Quindi pagavano e poi il prodotto ti veniva spedito a casa. Dopodiché però cosa succede? Sono nati nuovi concetti, per esempio quello di abbonamento, quello di membership, concetti nuovi e in particolare il concetto di e-commerce, di prodotti esclusivamente virtuali. Quindi un e-commerce in cui io non entro per comprare un prodotto che mi verrà spedito a casa, ma entro per andare a ordinare un prodotto che mi guarderò lì online o per il quale mi verranno date delle informazioni, mi potrò scaricare un programma, potrò seguire un video corso. Dopo aver capito questa tendenza, questi nuovi tipi di e-commerce, dobbiamo renderci conto che anche e soprattutto in seguito alla pandemia gli acquisti sugli e-commerce sono saliti a picco. Proprio perché la gente ormai si è abituata a fare gli acquisti online, banalmente perché non si fa fatica, cioè io prendo il cellulare e compro, pago, i soldi neanche li vedo e mi arriva l'oggetto il giorno dopo a casa. È più comodo, se io devo comprare una cosa non devo prendere, vestirmi, uscire, andare al negozio, ritornare a casa, cioè è una cosa più lunga, quindi si ha anche più voglia, si compra di più. E ormai è diventata una cosa per molte automatica, mi serve una cosa, non è che prendo il cellulare e vado a cercarmela. Ritornando al concetto di prima sul quale ci soffermeremo per questo talk, come sono aumentati gli acquisti dei prodotti fisici, sono aumentati molto gli acquisti di membership. Di membership io intendo corsi online che siano registrati, che siano poi in diretta, ma qualsiasi cosa, qualsiasi cosa ormai è fornita sotto forma di membership, il cloud, lo spazio su cui salviamo i nostri dati, ormai anche i robot da cucina per funzionare hanno bisogno dell'abbonamento, quindi qualsiasi cosa veramente ha bisogno di un abbonamento. Questa premessa perché? Per dire che le persone, la gente a cui noi ci rivolgiamo è abituata all'idea dell'abbonamento, però studi dimostrano che andare a far sottoscrivere un abbonamento è più facile rispetto ad anni fa, in cui non era l'abitudine, ma comunque è complicato perché nel momento in cui loro si abbonano, nella loro testa loro sanno che dovranno andare a spendere dei soldi ogni mese, ogni anno. Quindi noi nel momento in cui andiamo a vendere un abbonamento, dobbiamo essere convincenti nella pagina del prodotto, spiegare e andare a dare dei servizi e ragionare anche su quello che forniamo. Esempio, se noi andiamo a fornire un corso online, noi possiamo andare a venderlo in abbonamento se poi questo corso online sarà aggiornato, non se poi resterà sempre lo stesso, perché poi dopo ci dicono l'abbonamento e arrivederci e grazie. In una panoramica del genere, in cui ci sono sempre più acquisti, sempre più abbonamenti, più membership, WordPress come si muove? Ci sono dei nuovi strumenti per andare incontro a queste esigenze? Sì, ma molti restano comunque legati al caro e vecchio WooCommerce. È lo strumento ovviamente più utilizzato per fare negozi online con WordPress ed è uno strumento altamente efficace. Qual è il problema di WooCommerce? È che in particolar modo per membership abbonamenti è limitato, nel senso che non ha una funzione interna che non richiede un plugin di terzi o di Automatic stesso, ma semplicemente non ci permette di farlo con la versione gratuita. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare ad installare dei plugin, spesso che sono a pagamento. Non togliere i plugin a pagamento che io sono il primo ad utilizzare perché sviluppare un plugin per WooCommerce non è proprio un gioco e mi metto lì un pomeriggio lo faccio. Quindi è giusto pagarli. Però c'è un problema, nel senso che se io devo fare un sito per una persona che non vuole spendere tanto perché si vuole andare a vendere il proprio corso online, creato così, un po' casereccio, io se già li metto giù il preventivo per comprare i plugin di WooCommerce, per fare gli abbonamenti, le membership, lui mi dice è stato un piacere, tanti saluti e arrivederci, grazie, quindi non me lo farà mai perché è un costo assolutamente molto elevato. E allora che cos'è che nasce per affrontare queste esigenze di persone che sempre di più vogliono vendere abbonamenti, membership, ma vogliono spendere sempre meno, diciamocelo. E cosa viene incontro a noi sviluppatori di siti per fare questa procedura, per andare a creare questi siti in modo più semplice perché andare ad installare plugin su plugin non è proprio un gioco da ragazzi, cioè comunque richiede tanto tanto tempo e in particolare è anche rischioso. C'è il rischio che molti plugin tra di loro facciano interferenze e quindi succede un po' un casino. Nascono loro i plugin headless. I plugin headless, per chi non lo sapesse, non nascono solo per gli e-commerce, ma in generale per il mondo WordPress. Però per gli e-commerce in modo particolare cosa sono? Sono dei plugin che si installano da repository, gratis. Dopodiché nel momento in cui si installano, vi viene chiesto di collegare un account della piattaforma. Quindi voi vi dovete creare un account su un server esterno e dopodiché lo collegate alla vostra installazione di WordPress. Spesso è una procedura guidata, voi lì fate l'accesso, mail, password, lo fa da solo. Qual è però il problema di questa cosa qui? È che noi facciamo una procedura, una cosa così molto semplice. Prendiamo, colleghiamo un account, ci mettiamo un attimo. In realtà cosa sta facendo in quel momento la piattaforma? Sta andando a salvare i dati del plugin sul proprio server personale. Ovvero tutti i dati che noi andiamo a immettere in quel plugin saranno salvati non in locale sul nostro server, ma sul loro, sul server di altri a cui noi non abbiamo accesso ed è proprio questo il primo contro. Ovviamente specifico molti dei plugin address sono così, alcuni invece hanno dei file che si salvano nel nostro server personale, ma la maggior parte li salva sul loro, proprio perché? Perché è il principio del plugin address, non salvare niente sul server del cliente per velocizzarlo. Perché? Perché i loro server sono ottimizzati per quel plugin specifico. Però, come abbiamo detto prima, il fatto che questi dati vengano inviati a server esterni è un grande problema, perché noi non abbiamo l'accesso a questi dati, non sappiamo dove sono e non sappiamo che fine possono fare. E, oltre a questo, siamo esposti molto di più ad eventi imprevedibili. Cioè, succede che dei data center vadano a fuoco. È una cosa che non si augura a nessuno, però è una cosa che succede. Succede al nostro server, io mi auguro che tutti voi abbiate una copia di backup in un altro data center in un'altra parte del mondo. Quindi, abbiamo un e-commerce, è un problema perché andiamo offline in qualche ora, è un problema perché magari gli ultimi ordini li perdiamo, ma il grosso del danno lo recuperiamo, ripristiniamo il backup e siamo appunto a capo quasi. Invece così no. Se malauguratamente i server del plugin andassero a fuoco, noi i nostri dati li possiamo salutare e lasciare lì. E noi non abbiamo più un e-commerce. Oltre a questo, ovviamente, questi gestori di plugin headless sono tanto cari e carini, però ovviamente richiedono un pagamento per questa cosa qui. Hanno la versione gratuita, ma spesso richiedono un pagamento per sbloccare funzioni aggiuntive. E quindi loro, con molta semplicità, cosa possono fare? Possono andare e dire, da adesso cambio il prezzo e me lo paghi di più, che è una cosa legittima che loro possono fare. Possono fare anche i creatori di plugin a pagamento. Con la differenza che io ho un plugin a pagamento per WooCommerce, io posso disdire l'abbonamento, io il mio plugin ce l'ho. Poi non ho più gli aggiornamenti, l'assistenza, ma ho un anno di tempo per andare a trovarmi una soluzione. Io disdico l'abbonamento, è stato bello finché è durato e io mi trovo qualcun altro. Così, no, e te non paghi, è stato un piacere, il mio e-commerce resta lì, sul loro server, e io non ho più un e-commerce. Questo è un problema, è un problema molto serio. Quindi, quando andiamo ad utilizzare questi plugin headless, che hanno tanti proli, vedete qui, sono semplici, economici, più rispetto al plugin premium di WooCommerce o di altri sistemi. Però dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo pensare, io dico sempre questo, quando noi utilizziamo un plugin headless, noi non dobbiamo pensare di essere i proprietari assoluti del sito. Noi dobbiamo pensare che il sito è in condivisione, gli amministratori siamo noi, cioè noi lo possiamo gestire, ma parte del nostro sito è in gestione ad altre persone, che noi non conosciamo, perché io quando mi scelgo una compagnia di hosting, valuto in base a quello che devo fare, scelgo, vedo dove sono i data center, mi compro un piano che mi offra anche il backup, lì no, io gli do i dati e mi affido a loro. Per entrare nelle tipologie di questi plugin headless ce ne sono principalmente due. Il primo è il servizio esterno con i pannelli proprietari, sono quelli che forse io utilizzo un po' di più. Cosa sono? Sono dei servizi esterni nati come servizi esterni che funzionano senza WordPress. Dopodiché cosa hanno fatto, signorini? Hanno preso, hanno creato nel repository un plugin, che se lo installi, semplicemente cosa fa? Fa poco più di un incorporamento. È utile, è semplice. Lo metti, funziona bene, c'è l'integrazione. E va bene, funziona, e fin lì ci siamo, perché sono dei servizi creati appositamente per girare esternamente. Invece, quelli sono gli altri, quelli nuovi, quelli anche più interessanti, tra poco un esempio. Quelli che invece vanno gestiti dal pannello di WordPress, quindi non sono dei plugin che partono da servizi esterni, ma sono proprio dei plugin creati per WordPress, o in un approccio headless, semplicemente. Quindi, noi non lo gestiamo da un sito esterno, lo gestiamo dal nostro pannello. Il primo esempio, ecco l'esempio che vi faccio. Questo è Surekart, un plugin che è nato nella primavera, in versione primavera 2022, in versione beta, e si è sempre detto come il plugin che avrebbe rivoluzionato il mondo degli e-commerce. Ambiziosi. Però, effettivamente, ha delle buone caratteristiche. È un plugin headless, ovviamente, ed è stato progettato da The Braystone Force, ci sono progettato poi anche quelli di Temastra, Presto Player, insomma, Card Flows, tanti plugin, temi, insomma, importanti, non sono proprio gli ultimi arrivati. È un plugin headless, quindi, semplicemente, noi lo installiamo da repository, è gratis, e al momento dell'installazione ci viene chiesto di andare a collegare l'account sul loro sito. Lo colleghiamo, copiamo, incolliamo una API, Presto Fatto. Dopodiché noi ci possiamo anche dimenticare di avere un account sul loro sito, noi abbiamo la gestione dal pannello di WordPress, semplicemente. E voi direte, perché questi momi arrivano e devono cambiare il mondo degli e-commerce da qua ad anni? Perché hanno fatto uno studio di mercato e hanno capito quali sono le funzionalità più comuni che servono agli sviluppatori di siti e-commerce con WordPress. Quindi, prima cosa, c'è una personalizzazione in questo plugin completa di grafica. Quindi, cosa significa? Attraverso questo plugin noi non dobbiamo appoggiarci sempre ad un tema o a un plugin esterno per cambiare la grafica, è integrata ed è compatibile con qualsiasi tema e la maggior parte per alcune funzioni di editor visuali, ok? Elementor, Divi. Ovviamente funziona però con base Gutenberg. Quindi ha personalizzazioni sia con Gutenberg in tutte le sue funzionalità, dopodiché c'è la possibilità di alcune integrazioni anche con altri editor visuali. qual è un altro vantaggio? Che è pieno di funzionalità. Per esempio, si possono andare addirittura con la versione free a gestire abbonamenti e membership. Membership bisogna un po' ingegnarsi, ma si riesce a fare. Quindi noi riusciamo ad andare a vendere un corso online in modo gratuito attraverso questo plugin. Mentre invece con WooCommerce dovremmo andare a comprare un sacco di plugin esterni che, vi dico, comunque sono assolutamente validi, hanno un sacco di funzioni. Però è una cosa che fa accendere un attimino una lampadina, attenzione, perché queste funzioni sono quello che proprio manca a WooCommerce ed è stato lì che loro si sono voluti infilare per prendere il mercato. Oltre a questo è pieno di altre potenzialità, ha la gestione delle licenze per la vendita di programmi, ovviamente si vendono prodotti digitali, è possibile adesso da poco vendere anche prodotti fisici. È un plugin headless, però. Bello, ma è un plugin headless. Quindi, pregi, li abbiamo detti, un sacco di funzioni, riusciamo a fare un sacco di cose gratis. Viene un signore che ci chiede, voglio vendere il mio corso online. Io ad oggi, se lui vuole spendere poco e vuole fare una cosa molto semplice, tenderei ad andare verso questa soluzione qui, piuttosto che andare a comprare tanti plugin per WooCommerce che poi tra l'altro devono essere rinnovati annualmente. Su Recart ha versione gratuita, versione a pagamento, la gratuita ce l'avete sempre, per sempre, gratis, ok? Almeno così dicono. L'unico problema qual è? È che avendo un approccio headless si va a portare dietro tutti contro che abbiamo detto prima. Nel senso che noi non sappiamo benissimo dove vanno i dati e cosa potrebbe succedere. In più, se succede qualcosa ai loro server, potenzialmente c'è il rischio che vengano intaccato anche il nostro sito. Quindi è un problema. Quindi, per concludere, velocemente, dopodiché vorrei sapere un po' cosa ne pensate voi, se avete mai avuto a che fare con questo plugin, con alcuni plugin headless. Vi dico, plugin headless è grande risorsa, veramente, però attenzione a quando li installate, cercate di capire dove vanno i dati, come vengono gestiti e se ne vale la pena o è meglio restare, come spesso a volte succede, a volte no, l'ho detto, su una soluzione più tradizionale in cui siamo veramente noi padroni del nostro sito e abbiamo il pieno controllo. A Torino ce li coltiviamo da piccoli. Grazie Marco. Abbiamo tempo per qualche domanda? Ah, eccolo. Abbiamo il tema. Allora, prima tema ti tolgo la parola, se ci metti... No. Vai, dai. Quindi niente premesse, domanda secca. No, no, nessuna premessa. No, la domanda era, semplicemente, ma come mai, secondo te, queste piattaforme qua sono a pagamento, questi plugin, tipo gli abbonamenti che dici tu prima sono a pagamento, se già in realtà, come abbiamo visto altri servizi fare simile, potrebbero te fare a seconda direttamente del suo addebito, cioè quando il cliente compra l'abbonamento potrebbe mettere... Prendere una percentuale. Esatto, perché fanno, secondo te, questa concezione? Allora, vedi, è una scelta di chi... Ti ha già capito subito la domanda e io già te l'avrei fatta ripetere. Sì, no, beh, lì è sicuramente una scelta di mercato di chi produce il plugin. Loro evidentemente si saranno fatti dei calcoli, in più dipende dal caso, cioè attenzione. Ora, se ti riferisci a quei plugin che sono servizi esterni, che sono gestiti separatamente, ok, non faccio nomi, però abbiamo capito tutti di cosa stiamo parlando, lì molti quelli lo fanno già e poi dopo ti mettono Wordpress, ti mettono l'incorporamento e lì loro si prendono una percentuale e poi magari si prendono anche il fisso. Il diverso, invece, per quanto riguarda il plugin Headless. Lì loro hanno fatto questa scelta semplicemente per trasparenza, cioè loro dicono, anche un po' per pubblicità, noi non ci prendiamo alcun tipo di guadagno, te al massimo paghi un fisso, al massimo, ma volendo, e vi dico, questo qui che ho presentato io non è assolutamente necessario pagare, assolutamente. Io non l'ho mai pagato, sono sempre stato bene. Potrebbe essere più conveniente, però lì ci dovrebbe essere una gestione interna dei pagamenti, cioè proprio ci dovrebbe essere una progettazione diversa del sistema, capito? Quindi i soldi, teoricamente, la transazione, in parte dovrebbe passare da loro e poi arrivare a te, ok? Quindi lì è un'altra idea. In questa cosa qui non è stato fatto, a questo ragionamento qui è una scelta di mercato che loro hanno fatto. Più che altro per forse invogliare la versione gratuita, effettivamente pensando ci sarebbe una bella idea. Poi magari giocano anche sul fatto che se te fai un e-commerce, se poi non vendi niente, loro restano con la bocca asciutta, invece così almeno, giustamente, anche perché hanno prodotto loro un plugin interessante. Questo, credo, poi lì, una scelta di mercato. Se vuoi scrivere a The Braystone Force... No, no, senza incoraggiamento. Intanto complimenti per la preparazione, perché è invidiabile. E volevo chiederti se mettono a disposizione anche un blocco di template, di codici modificabili, al di là della customizzazione che puoi fare tramite quello che vedi, anche... Sì, allora, con Surecard, sì, immagino. Ok, sì, ok. Allora, loro ragionano intanto con il fatto che te dovresti riuscire a fare qualsiasi cosa da Gutenberg, cambiare colori, temi e cose... Dopodiché, sì, lo puoi personalizzare con del codice. Lo puoi... è un po' difficile, nel senso che lo si può fare. Non so quanto senso abbia attualmente, perché si riesce effettivamente a gestire bene. Si può fare. Purtroppo ancora non ci sono però dei plugin, non ci sono tanti plugin, come per esempio per WooCommerce, che io qualsiasi cosa voglio fare, io mi trovo un plugin, Repository. Quello purtroppo non c'è ancora, ci sarà, speriamo, speriamo ci sia. Però hanno il vantaggio di avere tante tante più funzioni integrate rispetto a WooCommerce. Intanto grazie per la presentazione, non conoscevo questa modalità e volevo chiederti, perché non l'ho capito bene, che giro fanno i soldi? Nel senso che, al di là dell'interfaccia e tutto quello che vuoi, quello che conta nell'e-commerce è incassare, far girare il denaro, perché arrivi sul tuo conto. Ecco, voglio capire che se Surekart ha un suo sistema di incasso oppure dei gateway di pagamento, e quali sono i gateway di pagamento che incorpora? Grazie. Prego. Allora, vi spiego, faccio una breve premessa per introdurre. Allora, gli ordini vengono gestiti da Surekart, ok? Però integra degli gateway di pagamento, ok? Quindi non è che poi ti fanno il bonifico. Per adesso c'è PayPal, Stripe e Molli, che qui in Italia non è tanto utilizzato, forse. Però in altri paesi sì. Ah, ok. Però sì, diciamo che i principali, PayPal, Stripe, ci sono. Quindi di conseguenza anche Polpay, Google Pay, quelli lì che derivano da Stripe, soldi arrivano. Sì, sì, sì. E come detto prima, loro non vanno a prendere una percentuale, loro si prendono un fisso, hanno i loro piani, se volete fare l'upgrade, però non hanno altro. Sì, per rispondere un po' anche a Matteo, no? Forse può essere davvero, soprattutto per queste nuove forme, una strategia di mercato. Per far partire, cioè io conosco molti altri plugin che hanno iniziato proprio così, cioè con una versione base strepitosa, poi intanto testano come funziona, testano quali sono le richieste da parte degli utenti. Questo è anche uno dei motivi per avere i dati sui tuoi server, no? Perché li analizzi. E poi a quel punto, quando è maturo, continui a dare un servizio ottimo, gratuito, ma poi sviluppi il tuo business. Altre nuove funzionali. L'ultima domanda. O anche molto di meno. Io ho una domanda, spero di non metterti in difficoltà. No, proviamo a rispondere. Con WooCommerce tu hai la certezza che gli ordini e i dati dei tuoi clienti sono sul tuo database. Se l'utente dice mi sono rotto, cancella tutto, anonimizzami, tu lo fai. Magari ti conservi il PDF nei tuoi database con lo storico dell'ordine per roba tua fiscale, per la tua fiscalità che devi tenere per 8 anni, però sul tuo database online non c'è più niente. Per il caro amico GTPR, sai qualcosa su come si comportano loro? E per questo ho detto spero di non metterti in difficoltà. No, cioè il problema è sempre che noi non abbiamo la gestione di quel server lì, loro. Quindi, per quanto noi possiamo dirgli eliminate, io non avrò mai purtroppo la certezza al 100% che loro lo facciano. Ma non perché io mi fido anche, però io non ho la certezza del fatto che io accedo e quei dati lì non li vedo più. Quello purtroppo no, perché io non ho l'accesso effettivamente al loro server, allo spazio in cui loro vanno a salvare i file. Purtroppo no. E lì loro sono a norma con il GDPR. Sì, loro dicono di sì e speriamo. Abbiamo trovato il talk da fare a qualche nostro speaker avvocato dell'analisi della loro GDPR. È interessante. Infatti, infatti, infatti. Due minuti, qualche altra domanda? Serena, che ho chiamato ho chiamato Simona prima. Ciao, complimenti. Grazie. Io appunto volevo capire un po' meglio questa cosa. Loro dichiarano di essere... Sì. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Dicono anche dove sono i dati. Allora. Non soltanto loro, ma anche gli altri che sono headless. Beh, lì dipende dalla politica. Molti sì, nel senso che quelli che utilizzo io solitamente ti dicono proprio in quello stato sono conservati. loro in realtà devo dirvi la verità. Vi direi di sì, però non me lo ricordo precisamente. Vi direi di sì perché avevo controllato che fosse a norma. Però, essendo a norma con il GDPR, sicuramente sono teoricamente nell'Unione Europea o in paesi che sono accettati dalla normativa. Quindi, Inghilterra, anche Canada. Inghilterra non più? Sì, vabbè, però per ancora forse. Ancora, ancora. Da domani la dismettono. Sì, anche io avevo sentito qualcosa, però non sapevo come tempi e ormai è andata. Anche in Inghilterra ce la siamo toglie. Anche ce la siamo persa pure l'Ingilterra. Eh, vabbè. Grazie davvero un altro appalauso a Marco. Prego. Grazie. 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 Grazie.